Ben insomma, volevo dire anche che i costumi, i costumi di scena sono di camiciucci, di bragucci e di scarpucci, le parrucche, le parrucche di questo, di chi ha portato le parrucche? Le orecchie sventola sono naturali, caro Chris, sembra magrino, sembra magrino, ma è una roccia, una bestia, io cerco sempre di trattarlo bene perché sennò è anche vendicativo, eh siamo amici, sta già diventando rosso, sono amici, sono invece solo il paggio del buffone del castello. No, adesso quando volete andare via, è vero, ditelo eh. Grazie. 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 Grazie.